E ora occupiamoci di questo Dinamo Kiev-Fiorentina che sta per cominciare. Prende posto anche Iachini con Dertissia sul pallone. Ed ecco, impassibile con il colbacco, Valeri Lobanovski che ha provveduto a infucare questa vigilia con alcune dichiarazioni che naturalmente avevano l'intento di nervosire la squadra viola sminuita da queste dichiarazioni, in particolare mentre c'è uno svarione da parte di Smato Valenco e c'è l'opportunità da parte di Baggio di andare al tiro. Battistini ha preferito non correre rischi, scaraventando la palla in fallo laterale. Ora c'è un cross da parte di Mikhail Icenko, cicca clamorosamente Salenco. Ma la prima impressione è che si giochi su una lastra di ghiaccio. Non è questa l'unica partita sulla quale grava la minaccia del maltempo di una sospensione. Una traiettoria poi corretta di testa da parte di Dertissia ed è forse l'azione più pericolosa che abbiamo visto finora. È un campo ghiacciato, la temperatura è a meno alta nella partita di andata. Intanto osserviamo questo attacco con pallone che va fortunatamente un metro al di là del palo alla destra di Landucci. Vi dicevo che sono squadre rispetto all'andata che hanno dovuto subire dei cambiamenti. Tutto in punta di piedi, pallone lanciato in avanti. C'è la possibilità di andare al tiro con questo pallone che finisce sul palo e sarebbe stato un autorete. Questo crea subito dei problemi perché c'è la possibilità di andare in contropiede con questo lancio in avanti. L'intervento subito da parte di Landucci. C'è la necessità di effettuare il rinvio. Il tiro viene effettuato poi in questo istante, parabola molto alta, poi il colpo di testa con Dunga. Baggio che effettua questo cross, cerca di liberarsi due avversari. C'è ancora Dunga che può andare in tiro. È pericoloso il tiro perché batte a terra davanti a Cianoff. Buon servizio adesso sulla sinistra, effettuato il cross. Sta per accendersi una mischia. Il tiro poi effettuato senza troppa convinzione da Zayez. Pallone che se ne va oltre la linea di fondo. Schierata la barriera. Tiro molto forte che però solvola la traversa. Pallone che adesso diventa pericoloso con questo tentativo. Effettuato il dribbling. Alzato il pallone, sono due giocatori. Attenzione, pallone che va fuori. L'ha colpito di testa. L'azione molto pericolosa è stata Zayez che, nel tempo di calcolare la traiettoria del pallone, riesce a effettuare un rinvio decente. Palla che se ne è andata oltre la linea laterale. con il regista che si diverte a scoprire almeno tutta la passione del pubblico ucraino. L'anticipo da parte di Kubik. Poteva scattare Dertizia. In effetti ci sono due giocatori della Fiorentina che possono proseguire. Vai in avanti in qualche modo potrebbe passare. Dertizia, Dertizia, fa andare al tiro Dertizia. La colpisce, sporca, peccato. Ha colpito, sprecando un'ottima occasione, Dertizia ha colpito male il pallone. Questa è stata l'arbitro. Vorre la intende evidentemente recuperare. Ancora la Dinamo in avanti molto pericolosamente. Adesso Litovchenko che può effettuare il cross. Pallone che va a sbattere sul ferro dietro il palo. Alla destra di Landucci e il ferro di sostegno della rete termina poi oltre il fondo. L'area non bisogna assolutamente farsi stringere in quella posizione del campo. Sessione al tiro. L'arparata bellissima di Landucci. La possibilità di andare al... Pallone per Baggio. Baggio può avanzare. Vediamo se va a concludere. Baggio ancora Baggio. Il tiro di Baggio. Il palo interno. Rava incredibile da non credere veramente. Azione sfortunatissima di Baggio. Ha fatto fuori tutti. Vedete. Può contenere oltre 100.000 spettatori. Kubik direttamente in porta. È stato Cianoff prontissimo nella parata a bloccare il pallone. C'è adesso ancora per Baggio sul quale non c'è una marcatura asfissiante. Baggio ancora palla al piede. Cerca di entrare nella di rigore. La finta. Poi Baggio ancora troppo in avanti. Cerca il tiro. All'ultimo momento in uscita si salva ancora Cianoff. Partita eccellente del giocatore della Fiorentina. Questo scatto. Lancia in avanti con un minimo di indecisione da parte della difesa. Poi il tiro sporco con Landucci preoccupato. Pallone però che Michalicenko ha calzato di esterno-sinistro. Pallone abbastanza lontano dal palo di... effetto a rientrare. E' pallone che dà l'impressione al pubblico per un attimo di terminare nel sacco. La palla invece è uscita ed è stata al tocco di pallone a Smatovalenco. Avanza ancora Smatovalenco. Non lo raggiunge Dunga. Effettuato il cross pericoloso. Colpo di testa con palla tirata. Attenzione! Salva miracolosamente, miracolosamente Landucci. Avevo visto il pallone pericolosamente avviarsi verso la porta di... la possibilità di Baggio di effettuare una punizione come siamo abituati a vedere. Il tiro di Baggio è la parata plastica di Cianov che ha avuto tutto il tempo di controllare la traiettoria del pallone e arrivarsi. Giocatore Smatovalenco dal fisico possente. Si continua a giocare. Adesso il pallone viene giocato da Biesonov. E l'arbitro fischia la fine. Perfetto. Direi che ha impostato tatticamente in maniera egregia la partita. Giorgi ha chiesto il sacrificio ad alcuni dei suoi di giocare in copertura. Ha lasciato Baggio davanti che gli ha dato ragione. Lo voleva fresco ed è riuscito anche ad arrivare quasi al gol Baggio all'ottato.